un attimo di tempo che si avvia perché appena kick non parte subito dimmi quando posso sì sì è avviata allora chiaramente quello che passa per essere uno scontro tra civiltà nelle visioni più nere nelle visioni più tetre tra scontro tra civiltà tra radicalizzazioni tra intolleranze religiose in realtà che cos'è? è uno scontro che ha al centro il riconoscimento dell'identità il riconoscimento dell'identità è un concetto che è sviluppato da Axel Onnet che è un sociologo tedesco va bene che ha scritto la lotta per il riconoscimento che tra le altre cose che è questo io vi faccio vedere la copertina poi lo dico se qualcuno vuole vedere vuole avere dei riferimenti bibliografici poi basta che me lo fa sapere e attenzione che io darò poi alla fine dopo la conclusione della lezione darò un link ai tutor d'aula perché vi potete scaricare il se chi non l'avesse già fatto ovviamente come dire perché quest'anno è stato è stato messo vediamo se ce l'ho un attimo qui a disposizione quest'anno la fondazione ISMO che ha prodotto il rapporto sull'immigrazione che è stato presentato l'altro giorno e quest'anno è di libero c'è chiunque può andare lì e scaricarselo perché è gratis vi mandano dalla fondazione ISMO sul sito della Franco Agile però da lì si può scaricare tranquillamente io poi darò il link ai vostri tutor d'aula in maniera tale è una cosa veramente preziosa per chi ha a che fare probabilmente lo conoscete io assumo sempre io parlo come dire do dei consigli ma chiaramente da operatori quali siete dovrei forse assumere il fatto che magari queste cose già le conoscete però insomma sia che le conoscete che non le conoscete io lo dico lo stesso c'è questo c'è questo c'è questo rapporto della fondazione ISMO che mi sembra essere abbastanza ricco e abbastanza prezioso per capire che cosa è l'immigrazione tutta l'immigrazione non riguarda tutta l'immigrazione perfetto allora cerchiamo di andare un pochino abbastanza velocemente perché vorrei arrivare alla conclusione e lasciare un pochino di spazio al di mare allora noi abbiamo vediamo dove siamo arrivati finora noi viviamo in una in una situazione l'Occidente vive nella postmodernità vive in una situazione di perenne liquidità e di incertezza va bene e vede arrivare sulle proprie coste no adesso sto diciamo un attimo dipingendo il quadro giusto per dare in maniera simbolica questa 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 raffigurazione no e vedi arrivare sulla propria costa altre persone che dicono essere noi siamo l'Occidente come voi noi siamo tanto occidentali come voi siamo occidentali in maniera diversa ma siamo altrettanto occidentali ecco questa qui come dire produce una frizione produce una frizione mette in competizione poi viene viene declinata come invasione come scontro di civiltà come come guerra etnica come radicalizzazione religiosa ma in sostanza che cosa è è una identità in cerca di riconoscimento no è un riconoscimento che viene che non è automatico no e allora dobbiamo andare a vedere che cosa si che cosa intendiamo noi per riconoscimento e come e come decliniamo questo riconoscimento di cui Axel Hornet non parla ci dà gli strumenti per capire il riconoscimento come può come può avvenire a livello soprattutto di minori di minori di minori migranti Axel Hornet tenta di sganciare il riconoscimento da un piano prettamente filosofico per costruire un complesso procedimento sociale di costruzione dell'identità possiamo immaginare il processo di riconoscimento come giocabili su tre distinti livelli questo è proprio Hornet che ci dice che il riconoscimento passa per tre livelli sono tre livelli si parte dal più basso e più generalizzato fino ad arrivare a quello più alto e più completo va bene quindi il primo lo chiama il piano dell'amore va bene è un riconoscimento che ha a che fare con l'amore adesso vediamo che cosa che cosa significa il secondo è un riconoscimento che avviene sul piano giuridico e il terzo invece è il riconoscimento più ampio che c'è che si gioca su quella che è la stima sociale va bene quindi c'è un amore che è il minimo al di sotto dell'amore non c'è niente c'è un disconoscimento ma vedremo adesso che cosa significa poi c'è il livello giuridico che è quello intermedio e poi c'è la stima sociale che è quello più alto allora il primo modello di riconoscimento ossia quello legato all'amore origina nella sfera dei rapporti più intimi attraverso cui l'individuo è messo in relazione e riceve riconoscimento come essere interdipendente legato ad altri bisogni di possibilità strutturabili all'interno di un quadro di affettività quindi un quadro di affettività si tratta qui di un grado pre giuridico di riconoscimento reciproco in cui i soggetti si confermano reciprocamente nella loro concreta natura di esseri bisognosi ci sta dicendo che il livello minimo di riconoscimento che noi diciamo siamo disposti a dare è quello che passa attraverso il riconoscerci reciprocamente come appartenente alla stessa specie umana siamo tutti uomini va bene tutti uomini reciprocamente diciamo in maniera reciprocamente come essere bisognosi di aiuto di intervento salvare l'uomo in mare uno non si chiede che nazionalità è che nazionalità non è si salva l'uomo in mare perché oppure le persone che escono da casa perché hanno avuto il sentore che c'è una nave che è arrivata non rifocillare i migranti lo si fa lo si fa come si aiuterebbe qualcuno anche italiano visto in caso di bisogno c'è un riconoscimento che si basa sull'affettività io riconosco in te che vogliamo dal punto di vista religioso il mio fratello e quindi ti aiuto perché riconosco in te un altro me all'esterno di me ma anche sul piano etico non c'è bisogno andare per forza necessariamente sul piano religioso sul piano religioso ovviamente è più manifesto nel senso che come dire il riconoscimento minimo è quello che passa attraverso il fatto di vedere un altro è come se ci avessimo davanti uno specchio io riconosco in chi mi sta di fronte un'altra persona che appartiene alla mia stessa condizione la mia stessa condizione fisica è un membro della mia famiglia è un membro del mio clan è un membro del mio paese è una persona che sta attraversando un momento di difficoltà è tutto questo qui va bene il secondo modello è legato alla capacità che hanno le norme giuridiche di produrre riconoscimento l'individo immerso in un contesto sociale riesce ad avere riconoscimento della propria identità nella misura in cui gli verrà riconosciuto da un determinato sistema giuridico questa forma di riconoscimento è quella che avete probabilmente visto con la professoressa all'Ocriere cioè oltre il riconoscimento di essere bisognoso per cui avevo fame mi avete sfamato avevo sete mi avete dissetato oltre questa forma di riconoscimento poi c'è si può attivare non è detto ma si può attivare nei fatti poi si attiva tutto un sistema di riconoscimento è quello in cui siete impegnati voi lo sfrario che cos'è se non il riconoscimento su un piano giuridico su un piano giuridico di protezione di aiuto di intervento a difesa o a sostegno di che cosa di quella identità come dire di cui i migranti sono portatori cioè io riconosco quella tua specificità di migrante come meritoria di essere difesa per esempio la particolare protezione che noi riserviamo ai minori i minori che non possono essere che non possono essere espulsi i minori che hanno delle garanzie che è giusto così che abbiano delle garanzie ulteriori rispetto alle persone adulte fanno parte di un riconoscimento proprio si riconosce siamo tutti d'accordo è innegabile che più o meno siamo tutti d'accordo ma se diventa legge diciamo siamo tutti d'accordo che come società occidentale come società avanzata non possiamo permettere che un minore venga trattato nello stesso modo di una persona adulta per cui c'è questo riconoscimento anche per chi non è minore insomma se tu vieni che cos'è il divieto di rimpatrio nei paesi dove vige per esempio la pena di morte è una condizione perché noi riconosciamo giuridicamente è un fatto giuridico non ha nulla a che vedere con il fatto con quello che dicevo prima sul riconoscimento che passa attraverso attraverso diciamo l'amore l'amore è un termine che usa veramente che usa Eger ma poi che Axel Onnet ripropone cioè nel senso che questa 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 fisicità questa prossimità corporea ecco non ha nulla a che fare con questa cosa il riconoscimento giuridico sia che io voglia riconoscere sia che io come dire possa migranti possano stare simpatici sia che io nutra delle idiosincratie nei loro confronti la legge è la legge è la legge che riconosce che ci costringe no? ci costringe ci obbliga a dare un riconoscimento giuridico a queste a queste specificità di cui di cui la legge si 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 fa carico si fa carico di proteggere la mediazione tra il primo tra il primo tipo di forma di riconoscimento basato sugli affetti ed il secondo giuridico sancisce da un lato un'evidente limitazione sociale delle spinte verso l'affermazione della propria individualità a caso del sistema normativo ma ricevendo in cambio un quadro giuridico guardate anche noi no devo fare devo fare qui vediamo lo faccio qui sopra perché qui non lo leggo perché c'è c'è una cosa c'è questa cosa che non va via vediamo se il copice va via ecco qui no adesso che vedete c'è qualcuno la slide che almeno io vedo in questo momento professore il titolo è tre percorsi di riconoscimento dell'identità perfetto ok allora aspettate un attimo ecco adesso vedete la slide perfetto è andato via Tims mi confermate che vedete la slide sì sì la vediamo tre percorsi di riconoscimento dell'identità la mediazione del primo tipo di forma di riconoscimento quello sull'amore basato sugli affetti e il secondo quello giuridico sancisce da un lato una evidente limitazione sociale quel via non repuso limitazione sociale delle spinte verso l'affermazione della propria individualità a caso del sistema normativo cioè nel senso che il sistema normativo limita l'individualità io non posso essere chi voglio no non posso andare nello strar e fare quello che mi gira per la testa all'interno l'esplorazione delle regole mi si riconosce una determinata protezione però chiaramente a costo di una limitazione no del mio della mia individualità questo è una caratteristica di tutte le leggi ricevendo però in cambio che cosa un quadro giuridico in cui la possibilità di esprimere la propria individualità viene sancitata a diritti cioè se io come dire una volta che sbarco se io scappo se non mi faccio acchiappare se sfugo ai sistemi di identificazione è vero che sarò libero di fare quello che voglio teoricamente avrò la gestione quanto meno nel mio tempo va bene però certamente non avrò nessun diritto pensate ai maggiorenni a chi arriva maggiorenne si sottraggono ai sistemi di riconoscimento di schedatura lo possiamo chiamare non hanno nessun diritto invece se vanno all'interno del percorso di accoglienza stabilito diventano soggetti aventi diritto c'era qualcuno qui che diceva che era faceva da da tutor legale anche quando ti deve andare a parlare chi è che va nelle commissioni dove è a Catanzaro per vedere le pratiche per seguire le pratiche c'è qualcuno qualcuno mi sembrava forse quello di Lamezia professore io vado sarà Ambroso sempre esattamente quindi ti trovi a dover tu riesci a vedere proprio con mano che cosa significa il riconoscimento dell'identità quindi di quel singolo di quel singolo minore come passa attraverso i diritti certamente il minore che viene affidato a te non può fare quello che vuole non è che può dire può fare può decidere però nello stesso tempo pur rinunciando è la storia del contratto social noi rinunciamo a una parte della nostra libertà però nel frattempo nel contempo abbiamo il riconoscimento di un diritto diventiamo soggetti portatori di diritti insomma tutta la storia che aveva fatta la professoressa Loprieno va bene professore scusi di interruzione perché stavo riflettendo su questo fatto cioè il minore è sicuramente oggetto di una disciplina ovviamente diversa la difficoltà sul piano pure dell'identità è far capire al ragazzo quando compie 18 anni insomma doveva finire nel senso che si ritrova ad essere soggetto tutelato a un soggetto che praticamente lo Stato può anche spellere volendo infatti infatti questi qui i ragazzi dicono sempre cioè i ragazzi mentono sull'età insomma questa è una cosa che tutti quanti sappiamo anche il riconoscimento presunto insomma nel dubbio si dice sempre che sono minorenni però nel dubbio anche i ragazzi dicono sempre che ci hanno se a loro servono due anni il fatto del mentire sull'età adesso è molto più difficile mentire per loro perché a meno che uno non gli viene riconosciuto lo status poi è necessario avere il passaporto per convertire il permesso di soggiorno e quindi noi nella maggior parte dei casi in questo periodo ci hanno detrato di avere nome e cognomi sbagliati con delle date di nascita errate ma che questi dati errati sono sono stati trascritti dopo lo sbarco lo sbarco o perché c'è stata fretta o perché i mediatori erano pochi e dunque hanno dovuto sbrigare il passaporto adesso raramente abbiamo almeno dalla mia esperienza mettono sull'età perché non conviene perché poi quando vanno in ambasciata a richiedere il passaporto potrebbero avere grossi problemi e dunque l'impossibilità di convertire il permesso di soggiorno non lo so da minorità a permessi di lavoro oppure proseguo affidamento lavoro e dunque non conviene più loro non conviene più loro però insomma voglio dire finché se fiuta è sempre una possibilità che viene rilasciata nel senso che se io posso stabilire la mia età come dire perché poi devi tenere conto anche di un fatto cioè che entrare in contatto con l'ambasciata devi vedere anche l'ambasciata di dove insomma se io vengo da una da una zona dell'Africa centrale dove l'anagrafe è quello che è insomma tutte queste cose qui anche anche riuscire ad andare al ritroso per ritrovare dei parenti che vivono da una parte e dall'altra alla fine ti rimane l'unica cosa certa che ti rimane anche con gli accertamenti diciamo diagnostici per vedere per vedere l'età l'unica cosa è che ti rimane veramente soltanto l'età cioè se uno viene da un villaggio del Congo o piuttosto che da un villaggio che è in mano ad integralisti islamici in Mauritania insomma lì certo che se vieni da situazioni più strutturate è chiaro che magari è più facile andare a beccare il tuo file dove c'è scritto tu chi sei chi non sei l'età che sei questo qui dipende dipende di caso in caso in genere diciamo che chi ha in mente una strategia ancorché temporanea tende a decidere lui quando compirà 18 anni in genere dicono tutti che hanno 16 o 17 anni a partire dalla considerazione se gli serve un anno per mettersi in regola per andare a vedere oppure due anni fino al combimento della maggior età dipende anche dal luogo in cui vengono perché per noi dire l'anagrafe dire l'ambasciata noi immaginiamo ma avete visto che cosa che significa chi era l'ambasciatore che hanno ucciso in Congo come fai ad andare in uno di quei villaggi a dire ma qui abita qui un certo Mohammed Salomet no diventa diventa difficile anche perché come dire probabilmente loro i documenti me lo dicevano diversi ragazzi soprattutto mediatori culturali me lo dicevano i minori i documenti i documenti di origine ce li hanno non è vero che non ce li hanno è che quando sono sul barcone li buttano o buttano i documenti quando appena arrivano a pozzarlo quando sanno di essere arrivati perché perché il documento gli serve casomai gli va male almeno per essere seppelliti a casa insomma però quando si rendono conto di avercelo comunque fatto di aver concluso la parte più tremenda del loro viaggio bruciano la loro identità la loro identità la nulla non strappano documenti passaporti insomma testa di riconoscimento quello che hanno perché non gli serve più perché sarebbe un impedimento perché metti tu che ne pigliano uno che ne so che il giorno dopo compie 18 anni e beh come sbarca diventa diventa subito rimpatriabile allora non gli conviene capisci qual è il punto poi è chiaro uno se la gioca in queste condizioni che deve ma per esempio tutta la nuova la legge che è stata emanata che mette tutta a disposizione dei controlli biometrici per l'accertamento dell'identità insomma quelle lì sono tutte approssimazioni che si fanno nel supremo interesse del minore perché il supremo interesse del minore è veramente il riconoscimento che noi diamo perché nel caso di incertezza dice la legge che nel caso di incertezza se chi deve decidere non è sicuro se qui ha di fronte è un minore o non è un minore perché magari c'è all'otto del braccio un pochino più lungo un pochino più spesso se non è riuscito a risalire ai parenti in patria chiaramente quello lì per la garanzia di legge deve essere trattato deve essere trattato come un minore cioè si fa salva questa garanzia è un fatto pure di civiltà no? e allora questa infatti come si dice come diciamo nella slide dice la lotta per il riconoscimento in questo caso è l'allargamento della sfera di quei diritti soggettivi umani politici sociali eccetera che universalmente accettati disegnano un livello superiore di identità cioè è una forma come dire la sfera dei diritti ancorché allargabili passo dai diritti umani ma anche dai diritti politici per esempio con la possibilità di partecipare alla vita politica dell'uomo in cui arrivano con i diritti sociali il fatto di poter concorrere che ne so all'assegnazione di un alloggio al fatto di essere immersi all'interno di un mondo per esempio di un mondo del lavoro garantito e tutti questi qui come dire disegnano un livello superiore di identità stai spostando è chiaro che il livello di riconoscimento sul piano giuridico amplifica allarga la tua possibilità di essere riconosciuto però sempre che cosa rimane rimane sempre l'idea che anche questo tipo di riconoscimento è quello che dicevamo all'inizio della chiacchierata che abbiamo fatto ieri cioè che siamo sempre noi a decidere perché mentre quell'umano diciamo vabbè dipende da una spinta etica figurati chi è che non riconosce anche nell'ultimo dei migranti una persona umano una persona che ha delle specificità che sono anche mie va bene ma se tralasciamo questa prima forma elementare anche nella seconda forma non sono i migranti che decidono che stabiliscono non hanno nessuna voce in capitolo per stabilire il livello di integrabilità giuridica perché è la società ricevente che deve sperimentare che cosa che deve sperimentare la possibilità stessa che facciano parte di un sistema di accoglienza o di un sistema giuridico o il contrario questo che l'abbiamo visto insomma fino ad oggi erano profughi va bene rifugiati è bastata una firma su un decreto da rifugiati sono diventati clandestini sono diventati come dire persone da accompagnare da rimpatriare sta bene sono ospiti ospiti non graditi insomma questa cosa qui è stata è stata è basta quindi il il riconoscimento giuridico è un riconoscimento che facciamo noi no dipende dalla volontà dei governi dipende dalla volontà dei governi riconosce anche ai miei paradossalmente pur ai minori insomma benché siano il fatto di farli stazionare sulle navi e di non farli sbarcare cioè quelli lì avrebbero diritto comunque a sbarcare no perché già essendo minori non c'è da fare nessuna procedura no essendo minori a volte a volte è evidente che sono minori no quindi non è che si deve decidere se sì se no eppure anche da quel punto di vista il riconoscimento siamo noi a decidere chi è minore e chi non è minore noi potremmo fare una legge restrittiva al massimo che se non c'è un documento ufficiale che attesta la maggiore età della persona che accerta la minore età della persona che è davanti io posso decidere nella mia autonomia nella mia sovranità di considerare tutte queste persone come maggiorenni come non meritevoli di stare in Italia ecco è chiaro che questa distinzione è una distinzione che non è nelle disponibilità del minore non è nelle disponibilità del migrante no anzi è vero comunque che spesso e volentieri i migranti sono ricattabili appunto perché non hanno accesso a questi livelli di protezione gli sfruttamenti che ci stanno nelle forme di economie insommersa in nero o anche illegali dipendono appunto dal fatto che i diritti tendano stendano ad essere resi operativi in maniera evidente il terzo modello invece attiene una forma di riconoscimento che deriva dalla stima sociale ossia quindi è quello più ampio il riconoscimento più ampio ossia da una modalità che oltrepassando il livello affettivo e quello giuridico forma un piano di mutuo riconoscimento tra individi all'interno di una stessa dimensione assiologica di una stessa dimensione dei valori che cosa significa? Significa che io non mi interessa il livello cioè non ho perscondato il livello umano prescindo il livello giuridico ma riconosco in te nei tuoi valori nei valori che stai portando un mutuo riconoscimento cioè io riconosco te e tu riconosci me vedete come il livello di riconoscimento diventa praticamente totale no? significa che tra te e me non esiste più nessuna differenza tendenzialmente non esiste più nessuna differenza perché non siamo più ai livelli di mutuo soccorso in quanto io ti devo coprire ti devo dar da mangiare insomma ti devo soccorrere ti voglio bene non è un ti voglio bene no? il lato affettivo dell'amore non è il ti voglio bene che mi spinge ad aiutare questa persona a riconoscere in questo essere che mi è davanti un qualcosa meritevole di riconoscimento e non è nemmeno più il livello giuridico il livello giuridico no? è quello che avviene nella normalità dei casi esiste un riconoscimento tra individui all'interno di un sistema valoriale che cosa sto dicendo è quello che si verifica in ogni momento in cui noi ci troviamo di fronte a che cosa ad una condizione per cui dobbiamo decidere se magari trovarci da stare dalla parte della legge o dalla parte della giustizia cioè noi dobbiamo fare una cosa che riteriamo essere giusta e quindi magari cercare di anche interpretando in maniera un po' ambigua la legge oppure dobbiamo seguire perissequamente la legge perché demandiamo alla legge l'unica possibilità di risolvere i problemi di riconoscimento questo qui è veramente il quadro diciamo di sfondo di cui ci troviamo a fare i conti a fare i conti quotidianamente no insomma non voglio citare sempre le stesse cose ma insomma è quello che si è trovato si è trovato invischiato per esempio Vimmo Lucano perché lui lo sapeva che quello che stava facendo probabilmente non era ai lini era borderline con le regole e lui sapeva che faceva una cosa del genere essendo sindaco poi si trovava di fronte a una condizione per cui doveva ampliare il sistema di riconoscimento ed è la stessa cosa con cui anche voi vi trovate a far conto quotidianamente la richiesta è quella di riconoscimento come diceva qualcuno dice sì ma poi se ci passi due anni se ci passi due anni con una persona è chiaro che alla fine a noi ci dicono che non dobbiamo farlo che non dobbiamo farlo però è chiaro che scattano dei meccanismi per cui non dico che ci affezionano però ne condividi ne capisci entri in un rapporto empatico entri in una dimensione astiologica cioè riconosci che quel sistema capisci che l'altro capisce anche te perché non è non è soltanto un problema un problema dall'alto verso il basso perché come l'operatore capisce sa riesce a vedere i problemi diciamo i problemi di vita i desideri le aspirazioni di un migrante anche il migrante riesce a vedere riesce a capire quali sono i tuoi momenti se c'è una giornata giù se c'è una giornata stotta non è che voi che siete operatori negli Sprar arrivate nello Sprar e in maniera asettica quasi che foste degli operatori di una struttura medica indossate il camice e cominciate ad operare in maniera indifferente rispetto a chi vi sta a chi vi sta di fronte non è così chiaramente che la relazione si influenza in maniera reciproca e in questo di influenzarsi in maniera reciproca scatta questo nuovo livello di riconoscimento che vedete non è forse non è nemmeno accettabile in maniera non è accettata in maniera universale probabilmente in contra delle resistenze perché è vero è chiaro che si fa molta difficoltà perché è quello più difficile da realizzarti è quello più difficile di realizzarti qui che cosa dico che gli individui in sostanza riescono a mettere in atto un processo di riconoscimento in quanto e nella misura in cui riscontano l'altro come portatore di valori comuni oltre il livello sentimentale ed oltre il livello della formale eguaglianza dei diritti quindi non è più un problema di eguaglianza di diritti è un problema di dire io riconosco in te e tu riconosci in me come all'interno di uno stesso destino comune sono le parole che Papa Francesco un anno fa nella giornata più brutta che l'umanità ha passato forse dalla fine della seconda guerra mondiale in cui c'era quella piazza abbattuta da una pioggia fredda e quest'uomo solo che non sapeva nemmeno più non riusciva più nemmeno forse con convinzione ad invocare il proprio Dio che lanciava lanciava questa sembrava veramente Cristo in croce quando diceva Dio mio Dio mio perché mi hai abbandonato questo Papa che rappresenta il Papa il rappresentante di Dio in terra dire ad un'umanità che stava veramente dietro le finestre impaurita come dicevamo prima come dei topi dice attenzione che nessuno si salva da solo quando Papa Francesco dice attenzione che nessuno si salva da solo sta dando a tutti a tutti ad ognuno e a tutti un riconoscimento dell'identità che passa su un modello di stima sociale significa che oltre il livello giuridico oltre il livello affettivo esiste un altro livello più profondo più profondo e quindi più generalizzato più alto un livello più alto in cui il riconoscimento dell'altro è come all'interno di una navicella di una barca che naviga non come quella che hanno attraversato il mare ma insomma una comunità di destino siamo tutti all'interno dello stesso destino se siamo tutti all'interno dello stesso destino non ci può essere una differenza tra me e qualcun altro non può essere non è significativa lo scarto non passa attraverso il riconoscimento dei miei diritti piuttosto che dei tuoi diritti perché siamo è quello che si dice oggi attenzione perché oggi si parla per esempio dei vaccini che tutti quanti devono produrre dei vaccini e quindi il vaccino da un bene economico sfruttabile deve diventare un bene comune non sfruttabile quindi si può fare profitto perché uno può vederlo in maniera etica perché è giusto vaccino ma lo può vedere anche in maniera decisamente strumentale è perché fino a quando l'ultimo abitante della terra non riceverà la sua dose di vaccino questo dannato virus può variare e quindi rimettere tutti quanti tutti quanti nella stessa condizione di quest'anno e mezzo che stiamo attraversando cioè la variabilità la mutabilità del virus è così elevata è così presente che o ci salviamo tutti o non si salva nessuno è chiaro insomma voglio dire non lo so se sta storiella della Cina di Wuhan di qualcuno però è partito da uno da questa persona il paziente numero uno ci sarà stato anche teoricamente uno che abbia avuto per primo questo virus alitando su altre persone chiunque si è contagiato chiunque si è contagiato si è contagiato perché è stato alitato da qualcun altro ecco quest'idea dell'alitazione che però è una caratteristica della specie umana è una caratteristica della specie umana non è che ci possiamo difendere costantemente sentirci attraverso team perché abbiamo paura dei contatti umani prima o poi verremo a contatto prima o poi dovremo accettare anche il rischio di ammalarci eventualmente anche di 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 subire le conseguenze perché non ce la faccio perché non non ce la ti fa però ecco questa quest'idea quest'idea qui di ci porta a pensare che effettivamente no se saranno non lo so in tutti i paesi del mondo c'è trovato questo virus non lo so ci saranno che ne so cento milioni di persone di persone infette sono cento milioni che partendo da da una singola località della Cina di alito in alito questo virus è potuto passare da una persona all'altra e si è propagata appunto con un'altrezza di mano con uno stannuto con un'alitazione con tutte la mascherina insomma sono cose che sapete ecco allora questa qui no per per spostare il ragionamento dalla pandemia alla alla storia dei migranti è chiaro che ha molto a che vedere in sostanza le difficoltà ma sarebbe riduttivo pensare che sia un mero a rendersi ad una supposta superiorità degli stili di vita occidentali dire che io ti accordo un mutuo riconoscimento non significa che io penso che lo stile di vita occidentale no sia sia superiore non è che io dico beati gli invitate alla cena del Signore venite venite a mangiare con me non è quello quella lì è una politica assimilazionista e non funziona assolutamente in questo caso no una voglia di lasciarsi assimilare guarda questi ragazzini che vengono qui sono attratti dalla civiltà occidentale quindi vogliono fare quindi noi noi occidentali siamo superiori non è questo qui quello che cercano di dimostrare che pongono all'attenzione la società di approdo è il loro sentirsi parte di un tuttuno quello che diceva diceva Papa Francesco no di un tuttuno culturale che appare sempre meno differenziabile in termini di autoctono verso straniero non c'è più questa differenza i ragazzini migranti in realtà pur con le dovute specificità non si sentono europei come dicevamo prima ma rivendicano il loro essere europei essere europei significa accogliere tra le loro specificità non come elemento esogeno che pian piano che pian piano viene naturalizzato come volevano fare con il calciatore uruguaiano la Juventus che viene naturalizzato ma come una parte ineludibile dell'essere occidentale oggi è qualcosa che non si può estraneare in sostanza quello che chiedo non è entrare a far parte della grande famiglia europea viva Dio siamo tutti europei benvenuti welcome to the hotel California non è quello ma quanto avere un riconoscimento che la loro specificità non è una diversità ma rappresenta una delle tante narrazioni di cui è costituito l'essere parte di una unica comunità di destino esattamente quello che vi dicevo prima c'è un'unica comunità di destino che è declinata in tante parti noi ne possiamo leggere una la storia francese in parte è anche la mia storia la storia della Germania è anche la mia come la storia italiana e anche la storia francese noi quando facciamo quelle piccole citazioni in latino sembra che che ne so quando diciamo idem quando diciamo quegli intercari che sono rimasti ancora nel linguaggio di tutti i giorni parlati parlati trascritti in latino ecco io ho avuto come? ecco dicevo ho avuto una sensazione un po' di spalestramento di stupore vedendo che in Francia anche i francesi utilizzano quelle locuzioni latine nel dire nel dire nel dire nel parlare nel parlare quotidiano ma è certo perché praticamente perché il latino che noi pensiamo l'italiano è la derivazione del latino ed è vero ma pure il francese è una derivazione del latino pure gli spagnoli sono una derivazione del latino ecco allo stesso modo dobbiamo considerare la cultura di cui loro sono portatori è una cultura come se fosse un'altra pagina un altro capitolo della stessa della stessa della stessa della stessa cultura e questa qui ce lo permette non il fatto diciamo così un accidenti alla storia ma ce lo permette il fatto che la globalizzazione ci mette strettamente a contatto perché avessimo se io avessi fatto questa lezione 50 anni fa avrei fatto ridere tutti quanti erano cose che ancora non stavano né in cielo né in terra perché avevamo il nostro tricolore la nostra specifista italiana i confini erano saldi dall'Africa se arrivava qualcuno era costretto a venire in quanto africano ma anche dalla Francia dalla Germania insomma è la storia che conosciamo ma con la globalizzazione con lo scioglimento di tutte queste con lo scioglimento di tutti questi 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 vincoli no che la globalizzazione ci propone ci permette ecco che ecco che diventa possibile anche arrivare a queste forme di 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 riconoscimento ora grazie per l'attenzione come vedete la lezione è finita ora mi dovete dire sinceramente se vi ho scocciato oltremodo e allora preferite stopparla qui avete tutto il mio riconoscimento no vi capisco se invece ci sono delle domande abbiamo ancora dieci minuti possiamo 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 anche parlare di qualcosa in realtà un pochino abbiamo già parlato ma insomma ditemi voi ditemi voi che cosa che cosa volete che che io faccio che cosa vedete adesso sullo schermo la vediamo te perfetto perfetto ok allora c'è qualcuno che vuole dire qualcosa a conclusione di questa stupenda due giorni che ha arricchito sensibilmente il vostro bagaglio di conoscenze sui minori volevo fare una considerazione Sara Ambrogio la solita rompiscatole no no Sara Ambrogio per carità no perché diciamo che il mio approccio alla alla questione migratore è stato pratico quindi queste queste impostazioni anche un po' teoriche mi stanno aiutando anche a riflettere sul lavoro che facciamo nel centro la questione dell'identità secondo me è una cosa che andrebbe studiata o fatta studiare a tutti quelli che lavorano con migranti a me è venuto in mente un episodio che adesso riguardo alla luce di queste due giorni francamente mi fa anche un po' vergognare perché abbiamo avuto un caso specifico di un ragazzo che aveva tutti i documenti a posto ma continuava a lamentare che il cognome fosse scritto male cioè mancava semplicemente una vocale e spesso è stato anche redarguito per questa cosa nel senso che gli si è quasi rimproverato che stesse impuntandosi un pochino su questioni di poco rilievo perché di fatto lui aveva tutti i documenti era tutto a posto ma perché dobbiamo andare a metterci a rompere le scatole a questura consolato eccetera eccetera in realtà era una questione proprio di identità cioè non aveva a che fare con la questione documentale ma forse c'era una questione un po' più profonda che noi operatori non abbiamo saputo riconoscere esattamente esattamente questo esattamente questo cioè dal momento che abbiamo sanato la tua posizione al piano giuridico che Tandere ha accettato dal piano della stima sociale quindi di un riconoscimento più alto avevate difficoltà come dire guardate questo qui adesso ci sarebbe stata ancora un'altra parte che io ho messo nella pubblicazione che ho fatto con alcuni dei miei studenti vedo il Cacurcio per esempio chi c'era più insomma ne abbiamo parlato un pochino a lezione ma c'è un'altra parte perché che cosa succede quando questo riconoscimento non si atto quando il riconoscimento della stima sociale non avviene e poi arrivano cose veramente sgradevoli perché essere come dire ricacciati sempre su un piano formale di riconoscimento dei diritti porta queste persone a non riuscire mai a poter affermare la propria identità in maniera totale e allora che cosa succede a persone in cui gli si nega continuamente la stima beh diciamo che scivolano verso che cosa verso quella loro qual è l'altra specificità di cui sono portatori queste l'abbiamo visto durante il viaggio loro si sentono dei salvati dalla divinità dei salvati da Allah il profeta è con loro cioè Maomet è con loro Allah è con loro e quindi quando come faccio che cosa io ti posso perché tu mi stai opponendo no la tua civiltà la tua idea di civilizzazione la stai opponendo alla mia e stai dicendo che la mia in quanto africana in quanto africana in quanto del bang in quanto musulmana in quanto islamica è inferiore alla tua e che tu sei la somma più alta della civiltà ora quando succede quando succede questa cosa di fronte di fronte all'opposizione di un estremo no di un assoluto il discorso può scivolare può significare che anche io ti oppongo un assoluto perché fin quando io accetto le tue regole del gioco io sarò sempre inferiore fin quando io accetto i tuoi diritti che possono essere per quanto avanzati possibili no ti posso integrare in tutte le maniere più avanzate possibili però sarò sempre io io occidentale quello che chiederà le carte tu sarai sempre costretto a giocare alle regole che io decido per cui oggi sei rifugiato e domani ti clandestino no per dire per dire e invece che cosa come faccio a sottraermi a questa a questa logica di dipendenti opponendo al tuo assoluto al tuo assoluto che sono le leggi la la republique la nozione di libertà di libertà francese per esempio parlo dei francesi ma è vero è vero dappertutto questa cosa qui al mio assoluto e qual è il mio assoluto su quale piano io riuscirò a non sentirmi a non sentirmi inferiore ad un occidentale qual è la mia la cultura di cui io sono espressione è una cultura che è fatta che è fatta di un dio che cosa c'è di più assoluto di un dio non c'è niente al dio tu non gli puoi fare delle domande se Dio dice che ne so onore il padre e la madre tu non gli puoi dire perché se Dio dice ricordati di santificare l'effetto oppure tutti i comandamenti a quel Dio non gli puoi dire scusa perché devo farlo no perché come di quel Dio ti dice tu a me le domande non me ne fai io sono Dio io sono il signore Dio voto non avrei altro Dio al di fuori di me punto ne posso avere un altro no allora quando io oppongo quando io ho la necessità di sottrarmi a quest'idea di inferiorità che tutto sommato c'è anche nel riconoscimento giuridico a me non mi resta a me immigrato a me portatore di quei valori di quelle identità che io vengo qui a rappresentare a portare come identità occidentale non mi resta altro che opporre a questi diritti altri diritti a questi diritti ad un assoluto altri assoluti e poi succede quello che è successo quello che è successo in Francia gente di terza generazione che per per rivendicare tutta la loro estraneità di una società che ovviamente non li riconosceva più che dei diritti che non li non riusciva a riconoscere in queste persone una parte essenziale del tessuto sociale no succede che se tu sei cattolico io sono musulmano se tu ho assistito una volta c'era era praticamente era un'università frangese poi dico questo e poi ce ne andiamo perché non posso abusare della vostra patria ma giusto per farvi capire a che cosa può a che cosa può portare questa cosa qui c'era un'università frangese si parlava della strage di Charlie Hebdo va bene e c'era questa una giornalista di Charlie Hebdo che praticamente era viva perché era arrivata dieci minuti dopo dopo l'attentato perché è stata una delle prime persone ad entrare dove c'erano i corti insomma la polizia non voleva farla nemmeno passare e poi è riuscita a passare ora che cosa che cosa è successo è successo che questa che questa persona qui stava dicendo sì però così colà arriviamo qui avete tutti i diritti perché perché devono fare perché devono fare questa cosa questa cosa qui ecco allora una ragazza che era una ragazza siriana risponde ecco qui questa Caroline non posso lo vedere Caroline Forest si chiama la giornalista questa questa ragazza siriana dice sì attenzione tu ci stai accogliendo però ci stai accogliendo in quanto noi accettiamo di diventare francesi e dice sì vabbè ma è ovvio questa cosa qui non è che vi stiamo chiedendo di fare gli schiavi stiamo chiedendo di essere giuridicamente come noi la siriana non capiva ma dice sì ma io ho dei valori che sono personali allora io ti oppongo i miei valori e i tuoi valori e lei dice allora poi la cosa stava stava diciamo degenerando perché ha detto sì allora che cosa succede la giornalista abbastanza così insomma non è chissà che è una guerra fondata la giornalista la Caroline Forest ha detto ci stanno i miei valori contro i tuoi valori facciamo la guerra e vediamo chi vince il che è la pazzia è la pazzia totale cioè è il caos cioè se ci mettiamo diciamo se non sappiamo procedere lungo la strada che dice o ci salviamo tutti o non ci salviamo nessuno cioè ci salviamo insieme non che io io dico agli altri come ci salva come dire il ciò che rimane è la guerra di tutti contro tutti io non è che voglio fare l'elogio di Papa Francesco per chi sono particolarmente devoto anzi però insomma voglio dire una cosa dice su Papa cioè di fronte se se veramente sta globalizzazione esiste o ci mettiamo ci mettiamo attorno ad un tavolo e ragioniamo no che cosa è possibile fare insieme o se non è che c'è chi ha le le verite rivelate e chi invece deve stare deve stare soltanto soltanto insomma lì poi la cosa è stata messa a tacere poi c'era pure il ministro dell'istruzione c'erano i servizi segreti insomma hanno capito che non era cosa insomma hanno smorzato la cosa poi non è degenerata è stato questo è un momento oppure c'è stato un ragazzo francese che io gliel'ho chiesto dico scusa ma perché se tu ti metti a bestemmiare che ne so la madonna Gesù Cristo i santi io che sono italiano cioè da un orecchio mi entra da un orecchio mi esce non mi fa nessuna difficoltà insomma si mi può dare poco partidio ma tutto sommato quante ne sentiamo e invece se io dico una cosa contro il profeta contro l'altro quindi la pistola mi spara e lui che cosa mi ha detto in questo caso su che cosa stava riflettendo sul fatto che ci sono due assoluti che si confrontano e lui mi ha detto è perché noi siamo fatti così capisci allora quando se io non accetto non voglio dire che io debba limitare me stesso attenzione però se io non accetto che esiste un altro va bene e se quest'altro deve essere diciamo una parte di me con cui io devo confrontarmi no perché magari decidiamo che è vero che non si bestemmi che io non bestemmio Allah e l'altro non se la piglia con Gesù ma magari ci andiamo a fare un bicchiere di vino ad un locale un bar insomma a fare una cosa più interessante che mette a ragionare sugli assoluti della religione perché tanto poi la gente questo fa come vediamo insomma non è che la prima la principale preoccupazione se non ragioniamo però se non ragioniamo se non riusciamo a ragionare a connetterci su questa su questa dimensione qui il rischio è tante volte che effettivamente la radicalizzazione perché se voi andate a prendere tutti questi attentati che ci sono stati tutti questi attentati che ci sono stati sono difatti tutti da persone che non erano poverini erano tutte persone integrate con passaporti che non erano nei CIE non erano le espulsioni non erano poveri erano tutta gente tutto sommato che non aveva problemi più come cambiare se avete ancora domande io mi fermo con voi anche fino alle 3 non ho nessun problema mi piace io volevo posso? prego Nicola Modafferi sono salve allora ho ascoltato la lezione avevo qualche perplessità quando all'inizio della lezione nella prima parte diciamo così lei a un certo punto tu a un certo punto hai parlato dell'accoglienza nel senso hai detto parlando della Calabria noi siamo stati tutto sommato un popolo dove il concetto dell'accoglienza è un concetto che storia per tradizione connaturato viste le varie popolazioni che comunque ci hanno per così dire attraversato e riesce molto complicato oggi umanizzare questo concetto dell'accoglienza io da questo punto di vista credo che il ma sicuramente sbaglierò che tutte che tutte le considerazioni sul concetto dell'accoglienza siano siano caratterizzate dal rapporto che si viene a creare con il dominio nel senso che almeno tutte le popolazioni che sono subentrate in Calabria la maggior parte almeno sono frutto arrivate come amici ecco sono frutto di dominazione quindi già il fatto stesso che ci sia un atto di conquista il concetto dell'accoglienza è un concetto che non nasce da una volontà ma quasi da una necessità nell'ipotesi invece a cui si faceva riferimento dell'accoglienza non è più un discorso di tipo culturale ma un discorso come tu avevi detto di empatia e io sono convinto di una cosa che l'empatia non si possa insegnare è una delle poche cose che puoi curare se c'è puoi stimolare se c'è ma non puoi non puoi inculcare non è un dato culturale non è una regola almeno questa è la mia opinione per cui o la possiedi o non la possiedi io per esempio personalmente ho fatto un'esperienza di un viaggio immediatamente dopo l'attentato alle torri gemelle a New York e io personalmente posso dire che io non potrei mai vivere in una in una città come quella perché entrando in un McDonald's andando in bagno c'era un tossico dipendente con la siringa attaccata ancora al laccio emostatico venuta al che siamo andati dal proprietario del McDonald's e abbiamo sollevato la questione dicendo chiamate un'ambulanza e lui in maniera molto quasi naturale quasi scioccato anche della della segnalazione ci ha risposto dicendo no vabbè una cosa che capita spesso adesso si rialza e se ne va tra un po' oppure eventualmente chiamo chi di dovere per portarla via quindi un assoluto concetto del non riconoscimento dell'altro quindi indifferenza totale che prescinde dall'idea che l'altro sia diverso o dalla mancata integrazione dell'altro rispetto a un mio sistema di valori o un mio sistema culturale che poi e poi finisco concludo che poi io sono dell'avviso che questa globalizzazione esista ma esista soltanto in ambito puramente virtuale perché poi di fatto esistono i confini esistono i limiti esistono le sovranità per quanto possono essere compresse o possono essere un po' espanse a seconda degli argomenti comunque esistono e nel momento in cui esiste il confine con un sistema di regole perché è vero che a noi può darti non dia fastidio la bestemmia però se la bestemmia è fatta in un contesto ad esempio che sia televisivo e quindi di promulgazione sociale educativo eccetera eccetera comporta delle sanzioni quindi io ricordo ad esempio la diatriba che era stata sollevata rispetto al crocefisso perché la stragrande maggioranza delle persone che integrate anche con un credo diverso islamico eccetera dicevano quello è un'offesa che è un'offesa al nostro credo religioso quando per noi il crocefisso indipendentemente da quello che può essere poi il credo di ognuno se siamo praticanti non praticanti atei agnostici cioè indipendentemente da tutto il crocefisso comunque rappresenta è un'identità storica anche dell'Europa e questo è un dato per quanto si possa dire il contrario ma è un dato il cristianesimo ha fondato l'Europa e quindi per noi indipendentemente il crocefisso può avere un significato anche diverso rispetto ad una precisa connotazione del divino però ad esempio se io mi trovassi in Egitto piuttosto che in altri contesti un po' particolari non potrei quasi quasi neanche fare il segno della croce ora il fatto che ci siano delle regole e se tu quando tu avevi tu hai detto a un certo punto hai utilizzato nel rapporto parlando del confronto di questa giornalista con la Soriana a cui tu facevi riferimento tu a un certo punto hai detto se io devo confrontarmi il problema non è il dovere cioè il devo confrontarmi è il voler confrontarmi perché se la mettiamo su un piano del dovere le mie regole sono no nel senso le mie regole sono queste se tu vuoi entrare all'interno del mio paese e ad esempio si faceva l'altra volta nella lezione precedente il discorso del pakistano che per che gli uomini portano un coltello che simboleggia insomma l'età adulta ottenuta se però nel mio stato per portare un coltello un'arma bianca tu devi avere un porto d'armi tu devi avere un porto d'armi io credo che si possa fare un discorso di globalizzazione su alcune tematiche come può essere ad esempio la tematica del diritto commerciale io sono un giurista quindi faccio un discorso un po' tecnico paradossalmente sul diritto commerciale tutta l'Europa si trova pienamente d'accordo cioè l'armonizzazione della legislazione europea sul diritto commerciale è molto più semplice diverso è l'ambito ad esempio del penale o l'ambito del diritto civile e diritto privato quindi la dimensione della regolamentazione dei rapporti privati perché ogni stato ha un gap culturale che inevitabilmente si porta dietro stop no guarda sì però come dire ci sarebbe da fare un'altra lezione gli stimoli sono però ti voglio dire una cosa insomma tu dici è innegabile che il crocifisso sia parte della storia della storia dell'Europa no vabbè sì ok però se vai a vedere tutta la Spagna meridionale quanto di arabo di musulmano c'è nella Spagna meridionale quanto di arabo di musulmano c'è nella Sicilia quanto di arabo di musulmano c'è in tutta una parte d'Europa che ancora è musulmana la Bosnia la Bosnia è Europa la Bosnia è musulmane l'Albania che è uscita dalla dittatura dalla dittatura come dire comunista l'Albania anche la stessa Gerusalemme ma anche la stessa è una terra che è divisa tra ma perfettamente quindi a dire a dire che a pretendere l'esclusività no a rivendicare come esclusiva questa cosa dico però io non voglio avere a che fare non voglio avere nulla a che fare ma poi ancora di più perché fermarsi all'Europa perché non includere nella stessa diciamo nello stessa unità unità culturale tutto il Nord Africa cioè voglio dire veramente io riesco a fare ho difficoltà ad immaginare se vado sullo stretto di Gibraltar ho difficoltà ad immaginare che cosa di culturalmente diverso ci possa essere tra la parte finale della Spagna e la parte iniziale del Marocco oppure ho difficoltà ad immaginare che possa che differenza possa esserci tra Mazzara del Vallo che si trova più a sud più a sud di Tunisi e la marineria di Mazzara del Vallo è costituita quasi totalmente da pescherecci che fanno la spola tra Tunisi cioè capisci il rimescolamento io però credo forse sbaglio perché non sono un sociologo però credo che quelle comunità che sono e si possono definire un po' ibride perché stanno a cavallo tra una cultura e un'altra sono delle realtà culturali sebbene nella diversità e nel rispetto reciproco ormai forti e consolidate non sarà mai il punitino di sollevare la questione del crocefisso ma infatti il problema non è il crocefisso perché innanzitutto è vero che ci stanno delle comunità che sono più integrate eccetera eccetera però quell'integrazione non è che è avvenuta dall'oggi al domani è avvenuta attraverso attraverso degli scambi degli scambi reciproci può darsi che da qui a due tre secoli a mille anni non lo so può darsi che se il virus ci lascia campare ma insomma vuol dire può darsi pure che arriveremo ad una condizione per cui io forse adesso sto per dire una cosa no no fammi però fammi un po' audace fammi fammi concludere perché sennò puoi perdere il filo perché come dire capisce dopo quattro ore è già abbattato difficile ma voglio dire che se noi non accettiamo il fatto perché vediamo tutto il bacino del Mediterraneo perché dobbiamo dire che noi siamo più simili agli scandinavi piuttosto che alle popolazioni che vivono che vivono in Libia alle popolazioni che vivono a Tunisi o alle popolazioni che vivono in Algeria evidentemente no ma sto parlando cosa del sud no insomma tra noi e la Grecia non c'è nessuna differenza tra la Grecia e la Turchia al di là che si chiede però a livello culturale quello che fanno come vivono come le cose non è che c'è tutta sta differenza allora il punto è questo questo qui sono delle differenziazioni tu dici gli stati mantengono gli stati non mantengono più niente insomma l'evaporazione degli stati si vede cioè noi avevamo la nostra liretta e passavamo adesso abbiamo l'euro e tu vedi come si esce da sta pandemia se non c'era l'Europa che non è uno stato se non c'erano i tedeschi che hanno deciso di tassare se stessi per togliere che cos'è questo qui se non un riconoscimento di stima sociale no i tedeschi che accettano di indebitarsi per pagare per pagare le spese per pagare la ripresa italiana insomma voglio dire è chiaro che questa cosa qui se prescindiamo dai processi di globalizzazione non li vediamo se ragioniamo come dire con il fatto ancora con esisto io esisti tu arriviamo a loro perché tanto questi qui questi immigranti volenti o nolenti tu puoi mettere tutti i confini infatti il confine d'Italia non è pandelleria non è Lampedusa Lampedusa è un confine che è bucato completamente insomma se vai a vedere il friuli Venezia giuri che è un altro confine che è permeabilissimo ma sono permeabili gli stessi come dire gli stessi aeroporti dove arrivano con falsi visti turistici persone che entrano in Italia e scompaio non ce la fai non ce la fai allora lo puoi vivere come un'invasione come il fatto io sono italiano e devo difendere a tutti i costi la mia specificità oppure oppure dire ma probabilmente questi qui hanno qualcosa da dire pure a me e io ho qualcosa da dire a loro il problema è che non è una scelta non è una scelta ma come dire ma ci troviamo non costretti ci troviamo giocoforza sono le condizioni esterne che ci determinano non è la nostra volontà perché se no continuiamo a fare gli italiani ma perché bisogna perdere per forza la specificità perché la specificità non è un dato assoluto che esiste dall'eterno ieri ma neanche la globalizzazione ma lo so che nemmeno la globalizzazione però se tutto passa accettiamo anche le singole evoluzioni allora non prendiamo l'eterno ieri come condizionante per l'eterno oggi andiamo a vedere quello che ci può servire dell'eterno ieri se ieri eravamo tutti italiani se parlavamo tutti vedi l'ho detto l'ho detto in una lezione di ieri la Francia fino a quando è stata una nazionale francese fatta da Messie Dupont faceva schifo a calcio quando ha capito che probabilmente che Zidane che gli altri i Trezeguet eccetera potevano innestare la cosa è diventata campione del mondo ma tu potrai dirmi sì vabbè però io preferivo la Francia che perdeva perché era franco francese come dicono i miei amici i miei amici di Parigi oppure posso preferire la Francia con gli innesti che però mi vince i campionati del mondo è tutta una questione di scelta il problema lo sai quale sia che io preferisca la Francia franco francese sia solo fatta da Messie Dupont sia che io preferisca la Francia con gli innesti non è nelle mie disponibilità perché tanto gli immigrati di seconda di terza generazione i nuovi immigrati a 20 miglia pullula l'Inghilterra può decidere di uscire dalla UE ma alle Avre più sopra a Calais c'è pieno di gente che in un modo o nell'altro prima o poi quella fortezza cadrà quella fortezza perché non è nella disponibilità di difenderla cioè non sta nelle cose difendere l'indefendibile perché non ci si salva da solo perché da solo non riusciamo a fare niente perché l'Inghilterra è vero che adesso sta godendo di una certa come dire un benesse però se ne pendirà insomma già cominciano a pendire in Scozia già si stanno si stanno attrezzando i referendari per ricongiungersi in un destino comune allora è chiaro che come dire a parte il fatto che la cultura musulmana è anche e anche la nostra cultura insomma voglio dire non è che anche ci stanno come dire anche tra noi calabrese anche dal colore io sono di tradizione ebreo separdita ma anche ma anche ma anche ma anche perfetto ragiono anche la tradizione ebraica è entrata a far parte della nostra della nostra della nostra cultura e vedi quanto smosi c'è stato cioè che ci dobbiamo mettere a discutere noi dobbiamo pregare i santi come i santi cioè voglio dire le divinità che erano pre cristiane perché la cristianità è stata imposta dalla Palestina e arrivata a Roma è una cosa assurda sia che Costantino abbia detto questa è la religione di Stato ma anche se Costantino non l'avesse detto se stava nelle cose quella cosa sarebbe diventata lo stesso una cosa è difficile è difficile veramente difficile immaginare come come ci si può sopporre a dei movimenti sociali a dei movimenti culturali soprattutto in tempi in tempi di veramente di di globalizzazione però ti ripeto queste qui sono cose che dette così soprattutto adesso che sono quasi le due diventa diventa una cosa abbastanza abbastanza io credo forse e poi ti lascio perché veramente sei stanco hai parlato veramente tantissimo e ci hai dato tantissime informazioni quindi che bisognerebbe comunque ragionarci sopra eccetera però io credo e sbaglio sicuramente in questa cosa che nella 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 specificità io posso anche trovare il ponte per aprirmi all'altro ma certo ma però per aprirti a me piace molto l'iconografia e sono tra piccolette uno studioso un amante anche di questo genere per esempio quando facevi riferimento alle dominazioni spagnole che sono andate in sud america e hanno dominato eccetera l'accoglienza del messico rispetto agli spagnoli è avvenuta grazie all'apparizione della madonna di guadalupe perché l'apparizione della madonna di guadalupe la madonna non è apparsa come una spagnola ma è apparsa come una messicana incinta facendo quasi quasi dire non abbiate paura degli spagnoli che portavano la religione cattolica e c'è tutta una mappatura delle immagini della madonna di guadalupe che è bellissima nell'aspetto sociologico io parlo dell'aspetto sociologico adesso quindi il messicano in questione è riuscito ad aprirsi ad un'altra cultura perché ha trovato nell'altro degli elementi di identità culturale propri quindi secondo me la specificità anche se è vero che non possiamo essere condizionati dall'eterno ieri però io non posso negare il mio ieri perché se io oggi sono ma guarda scusa però nessuno dice che noi dobbiamo rinnegare la nostra specificità il riconoscimento è un mutuo riconoscimento l'ho detto il riconoscimento per stima non significa aspettare per vedere chi viene dal Brasile chi viene dal Pakistan che cosa ha da offrirmi ma il problema è un mutuo c'è una mutualità vediamo che c'è di buono nelle sue pratiche vediamo che cosa c'è di buono nelle mie pratiche può darsi che in maniera sinergica uno più uno faccia più di due e quindi io possa che ne so voglio dire a me il kebab mi piace mangiare non vedo perché mi piace mangiare pure la McDonald's che certamente non è quello che mia mamma mi dava da mangiare quando ero bambino insomma non è che possiamo andare avanti sempre nell'iconografia di Totò sempre gli spaghetti e le cose no voglio dire siamo siamo permeabili siamo permeabili il problema è vedere riuscire a mettersi in un'ottica per riuscire a capire che cosa fino a che punto siamo disponibili a stare a confrontarci con gli altri ad ammettere questo mutuo riconoscimento la stima sociale non è qualcosa non significa abbassarsi le brache e dire venite tutti quanti no significa vediamo cerchiamo di è una comunità dire stima è un vascello unico veramente sono le parole non mi fare essere papista ad oltrante ma veramente sono le parole sono le parole di Papa Francesco quando scuote tutta l'umanità che non sapeva veramente noi ad aprile dell'anno scorso ma perdonami ma non sapevamo proprio che cosa fare c'eravamo in prega il vaccino sembrava dovesse arrivare tantissimo tempo dopo siamo passati attraverso un lockdown che non è il lockdown che c'è adesso che bene o male io non potevo uscire di casa avevo i vigili urbani fermi che mi bloccava c'erano le pattuglie allora non avevamo nemmeno una prospettiva i virologi dicevano forse arriverà il vaccino ma ci vorrà ci vorrà ancora e nessuno sapeva niente e quest'essere che cosa c'è questa persona ci ha detto qui o ci si salva tutti o non ci si salva nessuno e la stessa questa qui è un discorso veramente un discorso che parla della globalizzazione la globalizzazione significa che le differenze non è che vengono annullate però vengono rimescolate vengono rinegoziate permangono perché chi vuole seguire c'è chi piacerà mangiare soltanto gli spaghetti c'è chi piacerà mangiare il cus a me il cus cus per esempio mi fa schifo è inutile io non è che per dire io devo andare tante volte mi trovo a mangiare a casa di immigrati mi preparano cus cus io per essere gentile dico no scusa io cus cus non ne mangio perché mi sa di pastina in brodo la pastina in brodo mi fa schifo e quindi non ne mangio cus cus però se mi danno se mi danno un kebab me lo mangio se mi mettono a confronto un pezzo di pizza e un kebab probabilmente mi sta la molla me li mangio tutte e due perché mi piacciono tutte e due cioè è una continua rinegoziazione è una continua rinegoziazione perché il mondo perché il mondo la cultura gli esseri non stiamo fermi non è la fine della la fine della storia ancora non c'è non c'è la fine della storia comunque ti ripeto queste cose qui sarebbero veramente necessiterebbero di un capire due e chissà magari stanno chiedendo riusciamo non lo so è una cosa che ho detto così io ringrazio tutti i colori i quali sono stati vedo che ancora c'ho 39 persone e ringrazio soprattutto Salvatore e Valentina abbiamo abbiamo abusato anche della è un piacere soprattutto è un piacere e voglio voglio ringraziare veramente tutti coloro i quali mi sono stati e io poi a Valentina e a Salvatore vi mando quel link e poi avrete avrete modo voi di di renderlo di renderlo pubblico vi ringrazio veramente tanto e speriamo che questo capo possa essere appunto un luogo anche in cui si 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 per una crescita comune va bene grazie mille arrivederci 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 a